Buongiorno, oggi mi trovo a Melide e sono qua per mostrarvi un appartamento di due e mezzo locali, mi trovo al terzo piano di uno stabile di 5 piani. L'appartamento in questione è completamente arredato, si tratta di un due e mezzo di circa 55 metri quadri, ripeto, completamente arredato. È stato rinnovato nel 2012, questa è una breve panoramica. Allora, cominciamo dalla camera, zona notte, abbiamo un letto matrimoniale, diversi comò e dei grandi e comodi armadi. La camera resta particolarmente fresca perché abbiamo una parete qua di bosco, praticamente la vista, quindi zero sguardi indiscreti innanzitutto e il secondo rimane appunto fresco d'estate. Questa la camera nella sua interezza. Quindi andiamo a vedere ora il bagno, bagno che ha anche a disposizione una lavatrice privata, il water, la vasca, abbiamo il lavabo e poi specchiera armadietto. Ripeto, è completamente arredato, bisogna portare esclusivamente i propri vestiti, qualche effetto personale e nient'altro. Abbiamo anche le stoviglie della cucina. Qui intanto, prima di un muro all'ingresso, guarda roba, molto comodo. quindi il salottino con due divani, abbiamo qua la zona pranzo e la cucina. Cucina completa di piano cottura in vetro ceramica, forno ad aria calda sottostante, scusatemi. Abbiamo una lavastoviglie piccolina, da appartamenti di due e mezzo locali, comoda, fornetto a microonde e colonna, la colonna di frigorifero e congelatore a tre cassetti. Particolarmente vuoto, inquilino attuale è una persona che gira parecchio in mondo. quindi dal salotto usciamo poi sul balconcino che gode di una spettacolare vista sull'acqua. Ripeto, Melide, palazzina di 12 appartamenti, disponibile anche un posteggio in auto rimessa, esterna, coperto, eccolo per correttezza. Possibilità di deposito tramite Swiss Couch, un'assicurazione di garanzia, altrimenti le tre classiche mensibilità sono ammessi animali di piccola taglia. Io vi ringrazio, è tutto, ti affitto. Grazie. Grazie.